C'è chi nelle calde giornate estive si diverte ad organizzare manifestazioni di intrattenimento con tanto di musica, chi va in discoteca, chi si diverte in spiaggia e c'è chi invece proprio nelle calde giornate estive comunica con gli altri raccontando le proprie esperienze di vita senza alcol e droga, un metodo innovativo. L'iniziativa si darà a Gela ai prossimi venerdì 12 e sabato 13 agosto grazie al gruppo di missionari della Chiesa Parola della Grazia curata da Giuseppe Laspina. Appuntamento previsto nella piazzetta adiacente alla vecchia Dogana nei pressi della capitolaria di Porto sullo lungomare Federico II di Svevia. Ottanta ragazzi circa testimonieranno ai loro coetani che ci si può divertire in allegria senza ricorrere a sostanze stupefacenti, fumo, alcol ed altro ancora. Quella di Gela è la prima di tre tappe del tour denominato Be Free. Oltre alla città del Golfo appuntamenti sono previsti anche a Prato e a Roma. Per l'occasione il gruppo di missionari ha realizzato anche un video che rappresenta un invito a partecipare. Qu Handleşia intéressant ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.